Inaugurato nella scuola dell'infanzia Mariano ad Andria il parco giochi Nadia, ossia Speranza, dedicato ai bambini di Mariupol, vittime della guerra in corso. Francesco Rossi. Con i fondi del piano estate avevamo pensato di abbellire gli spazi esterni. E quindi quando è scoppiata la guerra abbiamo pensato di dedicare questo giardino, questo parco, ai bambini che invece non ce l'hanno più perché vengono distrutte ogni giorno tante scuole e quindi avendo anche ospitato una bambina ucraina nella nostra scuola ci è sembrato spontaneo, naturale avere un pensiero per loro. La scuola dell'infanzia, qui abbiamo cinque sezioni, lavorano con l'educazione civica, con il rispetto dei valori, si lavora tutti insieme a partire dall'infanzia e anche qui saranno presenti anche classi di scuola primaria e così anche nella scuola secondaria di primo grado. C'è questo filo rosso della pace che oggi lo chiediamo a gran voce e lo sentiamo veramente nel cuore sia ai genitori, sia agli alunni, sia ai docenti. La speranza è il nostro faro, quello che non deve mai morire in noi. Se coltiviamo la speranza ci attiviamo per costruire la pace nei nostri luoghi, in famiglia, al lavoro, a scuola. Quindi guidati dal segno della speranza, dal verde della speranza, riusciremo a cambiare in meglio il mondo che ci circonda.